Il primo obiettivo nel trattamento della malattia parodontale è quello di cambiare o andare a rimuovere l'origine microbica e dei fattori di rischio che possono comportare un peggioramento della malattia e quindi riuscire a mantenere in salute il tessuto parodontale. Il gel di aloe vera contiene vari componenti con caratteristiche antibiotiche ed antinfiammatorie che possono risultare davvero vantaggiose nel trattamento delle malattie parodontali. Lo scopo di questo studio era quindi quello di andare a verificare gli effetti dell'applicazione locale del gel di aloe vera in pazienti con parodontite cronica. Questo studio ha rivelato che l'applicazione locale del gel di aloe vera può essere considerata come un trattamento aggiuntivo con ridimensionamento e pianificazione delle radici nella parodontite cronica.